In mano niente Isox era più strano vero Sì Togliando aspirapolvere Vieni qua che c'è coltello Ammazzalo, presto, ammazzalo Presto, è buono Sei buono Buono Tu uccidilo, uccidilo Vai, no, non sto facendo niente Non sono di merda Lui dia che faceva l'aspirapolvere Ehm, in tonnevole Ehm, salve Fermo, stai fermo Allora, non ti dover Fermo, stai fermo Allora, non ti dover Ho da tavolino Non c'è tavolino No, è che sono a tavolino Braga, guarda questa parte Seguitevi, seguitevi Seguitevi, parola di parti Allora, c'è la zona mini-giochi Ok, allora vai Bastardo Isaac, dove sei andato Fai se è così appena ti vedo ti spaventare passato a scopo del mondo passato a scopo no che cazzo un buco azzurra il bc ammazzato io cadendo ogni tecnico uno isa isa degli uccidere qualche modo devo arrivare devo dire le arpa se questo dà la vita oltre il tempo ok ssfn ho intrappolato togno posso venire a cercarmi scusa togna ma no lascia libero interiore un gioco posto qualcuno mi liberi sono alla ruaia adesso isa sono alla roulotte qualcuno mi liberi isacco un mio dio vado 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 ti ho visto se ci riesco no come hai fatto isa come è possibile non mi sa che non ho visto capo niente però qualcuno mi liberi per fortesia vi prego sono alla roulotte vai isa dai andate confido in te vado attenzione ahahah giuro che non ho niente con te sei morto mondi mi sa che è rimasto le armi posso solo che arrivo mondi ehi testa faccio il ct ok isaac ci ammazza se comunque no no fidati di me isaac con isaac non c'è vita è pieno di sotto ah mamma mia micchia dov'era? dov'era? mamma mia proprio basta ti conviene stare fermo mondi va bene e viva il comunismo cinese è finito ma allora uscite fuori state fermi in linea subito dal da in piedi guardate soltanto il cielo ma in linea DSL guardate il cielo subito fermili aspetta allora fate su e giù con la testa ti diverti così poco fermi qua fermi fermi andatela dietro dietro subito dietro dove 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 c'è la roulette motor russa cinese qua qua scegliete un colore blu blu sicuri pare che guardate chi perde muore va bene ok ok no vedi qua che cosa succede adesso guardate c'è la roulette guardate oh merda rosso era quello che sto facendo prima con togna si si no aspetta rosso vince o perde a punto oh merda che cos'è sta roba ahahah tutti e due si abbiamo vinto siamo salvi siamo salvi siete fortunati ok seguitemi abbiamo rotto oh madonna abbiamo rotto i giochi che culo avete ahahah giochiamo a questo gioco qua entrate dentro subito vabbè si dentro dentro veloci dentro 1 2 3 1 2 3 ok 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 vedete quella scarmata lì si ecco lì apparirà un colore dovete subito andare nel colore che appare ok 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 l'ultimo che arriva amore ehm no start eh no no u 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 che si però così è impossibile infamissimo oh cazzo non ce la farò mai ma adesso diventa rosso ok allora 1 2 3 vai 1 2 3 2 3 le seri di partenza mi è sadico ma c'è un coltello nella mia scrivania nella mia libreria evviva io dormo allora il primo aprile esercito alle celle prima che glielo dico io è morto non sono troppo guardato devi uscire prendere la granata ma di nuovo ok potete uscire infila il tavolino t'hai provato eh t'hai provato eh t'hai provato eh t'hai provato eh bastardo me lo potevo avrei dovuto aspettare domani dammi il cinque dammi il cinque dammi il cinque devi che gli tira una coltellata ho detto al tavolino tutti tutti al tavolino ok allora al prezzo facciamo così ora ora ognuno sulla sedia sulla propria sedia allora prezzo siamo nonni e giochiamo a carte aspetta improvvisate un discorso da briscola da briscola si porca puttana isaac porca putta proprio questa carta di me che fa così con il coltellino ah io foldo isaac del cazzo io foldo devi buttare giù l'asso adesso io fold tu foldi e io ti prendo questa carta guarda un 2 io raiseo raiseo no check hai capito male check ok chip chip io ho in mano un fante e un 3 io ho un cavallo e un ra ecc ok siete passati tutti e due andate al teletrasporto io entro fermi, fermi se no vi sparo MERDAAA HAHAHAX HAHAHAH está provato eh è che dovevi sempre rimaniere io con lo stronzo con l'arma זה merda Ehi roma l'ho visto che allargato il giro a se ci sta sotto la percorso il suo lavoro ma santo dio che vado a 9 Daaaah! Sono morto già in partenza Un Atrium e muore Ma come hai fatto?